Ciao, sono Federica Musella, anche se non si vede dal trucco. Sono alla Galleria Toledo e sto per iniziare lo spettacolo Paloma Negra, uno spettacolo su Frida Kahlo, una grandissima apettrice messicana, che mi è entrata dentro qualche anno fa e che sono riuscita finalmente a portare in scena. Saranno con me altre quattro ragazze, ognuna di loro rappresenterà un momento della sua vita e io rappresento invece un po' più il suo quadro, la presenza un po' più forte. Si parte da Frida Kahlo e attraverso di lei cerco di raccontare anche delle cose che mi rappresentano, che somigliano anche a quello che è il carattere di Frida. Un carattere fortissimo che mi ha colpito veramente tanto. Spero che comunque piaccia lo spettacolo e che in maniera semplice arrivare al pubblico. Grazie. 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 Grazie.